Innanzitutto non sono così convinto che sia l'ultimo Consiglio Comunale, perché non sappiamo se oggi si completa la discussione, poi c'è il rendiconto, il bilancio previsionale, dei libere importanti, ne cito una per tutte, Napoli Sociale, che approveremo nei prossimi giorni. Oggi è stato importante perché su richiesta dell'opposizione sono venuto a enunciare, seppur sinteticamente, un rendiconto politico, non consuntivo, perché le cose fatte sono tantissime e le cose ancora da fare sono anche tantissime. Però il rendiconto politico, io ho voluto sottolineare che Napoli in questi anni ha avuto una sua visione autonoma, ha retto al momento economico più difficile, abbiamo cambiato la città rispetto alla fotografia di cinque anni fa, non abbiamo rinunciato ai servizi essenziali previsti dalla Costituzione, abbiamo dato un senso al pubblico, abbiamo rotto i rapporti che c'erano tra Cricchi e affari ma la politica e camorra col Palazzo San Giacomo, ho fatto una visione che poi sta là, c'è la registrazione di quello che ho detto e quindi credo che adesso ci dobbiamo preparare da qui a qualche giorno ad essere, visto che ci ricandidiamo, giudicati dal popolo napoletano, al quale ci sottoporremo con la coscienza a posto ma con la consapevolezza che c'è ancora tanto da fare nella nostra città. Però l'abbiamo fatto con credibilità e quindi vogliamo continuare il lavoro e portarlo a termine. L'abbiamo sentito quello di Gianni Lettini, che però era uno di quelli che aveva chiesto di parlare, ho sbaglio. Sì, l'ho detto prima, noi stiamo qua per richiesta dell'opposizione, ma non meraviglia, diciamo, è stato uno dei consiglieri comunali più assenteisti, nonostante per mandato popolare doveva essere il capo dell'opposizione. L'opposizione in questi anni è stata rappresentata soprattutto da Enzo Moretto, qua che Lettini si è visto poco. Oggi era una loro richiesta, non l'abbiamo ascoltato. Credo che il Consiglio Comunale è un luogo in cui chi viene eletto dal popolo deve portare le proprie argomentazioni. Poi c'è anche, ci sono altri luoghi che noi frequentiamo molto, che sono la strada, le assemblee popolari, i dibatti televisivi e radiofonici, però oggi era una giornata, tra l'altro venerdì santo, chiesta dall'opposizione, noi siamo venuti, io sono venuto qui, mi tratterò tutta la giornata, ascolto e Lettieri ha ritenuto di non intervenire. Poi chiedetelo a lui perché non l'ha fatto, non lo so.